I più recenti dati economici indicano che la nostra economia ha iniziato la risalita dal minimo registrato nel bimestre marzo-aprile. Nel mese di maggio la produzione industriale delle costruzioni, le esportazioni e le vendite al dettaglio hanno registrato un forte rimbalzo non appena si sono riaperti molti settori di attività e le misure di distanziamento sociale sono state allentate. Stimiamo che la ripresa sia continuata in giugno e luglio, tuttavia l'entità della caduta dei mesi di marzo-aprile è tale che il secondo trimestre registrerà comunque in media una forte caduta del PIL seguita da un altrettanto marcato rimbalzo nel terzo trimestre. Le misure adottate, come dicevo, hanno raggiunto larghi strati della popolazione considerando gli effetti sul mercato del lavoro, una stima piuttosto prudenziale ci porta a ritenere che siano almeno un milione e mezzo i posti di lavoro salvati dalle misure adottate finora.